Venerdì, al nord perturbazione in azione con precipitazioni diffuse su gran parte delle regioni, meno in Emilia-Romagna e Veneto. Neve copiosa sulle Alpi sopra i 1800 metri. Sabato, irruzione di aria fredda dalla Russia. Mattinata ancora piovosa in Lombardia e al nord-ovest, neve a quote via via più basse. Pomeriggio con maltempo solo sul Triveneto. Al centro, venti forti da sud, specie sui rilievi. In questa giornata pioverà un po' sul Massese, altrove avremo un cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Temperature in aumento. Sabato, pressione in calo e così la giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile soprattutto su Toscana, Lazio e Umbria specie al mattino, sarà soleggiato sul resto dei settori. Al sud, pressione stabile e così in questa giornata il bel tempo sarà prevalente, infatti il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Venti forti di Libeccio. Sabato, la giornata trascorrerà con un tempo un po' instabile soltanto sulle coste della Campania. Altrove avremo un cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Calo termico.